Scatta da oggi martedì 1 febbraio la stretta sull'obbligo vaccinale per gli over 50 prevista nell'ultimo decreto anti covid con le nuove regole su green pass nei negozi mascherine e obbligo di vaccino. In Umbria sono 432.613 i cittadini vaccinabili in questa fascia d'età. La misura riguarda gli over 50 che non si sono ancora sottoposti al vaccino obbligatorio e che da oggi 1 febbraio possono incorrere nella multa una tantum di 100 euro che viene irrogata dal ministero della salute tramite il servizio di riscossione dell'agenzia delle entrate. Per chi ha compiuto più di 50 anni inoltre c'è un'ulteriore stretta in arrivo quella del 15 febbraio data in cui entrerà in vigore l'obbligo del super green pass che si ottiene tramite vaccinazione o per guarigione da covid per tutti i lavoratori. Chi sarà sorpreso senza il certificato rischia una multa che varia dai 600 ai 1500 euro. Chi invece non presenterà la documentazione sarà considerato assente ingiustificato con la sospensione dello stipendio anche se sarà comunque mantenuto il posto di lavoro.